La linea ferroviaria retina è stata al centro della riunione della cabina di regia istituita dall'assessorato regionale ai trasporti che si è svolta venerdì 27 gennaio. L'intera seduta, a cui hanno partecipato anche i sindaci del Valdarno, è stata dedicata a questo tratto di linea ferroviaria. L'assessore regionale Stefano Baccelli ha annunciato un prossimo incontro con i comitati dei pendolari, quello del Valdarno, di Arezzo e della Valdichiana. La retina si conferma infatti una linea problematica. Va detto, spiega Baccelli, che si tratta di un sistema particolarmente complesso, dipendente dai venti anche molto lontani dalla Toscana e difficilmente governabili dalla regione. Per i treni più critici, costantemente monitorati, sono comunque in corso approfondimenti per individuare insieme ai gestori modifiche alla programmazione che possano migliorare realmente la puntualità. Parte dei treni su cui salgono i pendolari del Valdarno sono compresi nel contratto di servizio fra Regione Umbria e Trenitalia, in quanto coprono la tratta Firenze-Foligno. Per questo la regione toscana, annuncia Baccelli, ha avviato rapporti con la Regione Umbria per affrontare insieme monitoraggio e analisi del servizio ed adottare soluzioni per migliorare la puntualità di questi treni fondamentali per i pendolari toscani. Negli ultimi mesi, sulla linea retina, circa il 15% dei treni ogni giorno ha avuto un ritardo superiore ai 5 minuti. Particolarmente pesante è la situazione lo scorso dicembre, dove la puntualità è risultata di poco superiore al 78% in seguito a guasti e all'attevazione di una nuova tecnologia sulla tratta Arezzo-Orvieto.